Centinaia di preziosi reperti archeologici risalenti all'età romana, imperiale e tardo repubblicano sono stati scoperti e sequestrati dalla Guardia di Finanza di Roma nelle zone di Velletri, Lanuvio e Nemi. Le indagini delle fiamme gialle hanno riguardato un collezionista d'arte, ma nel complesso sono state denunciate quattro persone per detenzione illecita di beni archeologici di proprietà dello Stato. In una splendida vila di Lanuvio sono state ritrovate alcune colonne in peperino, rigate e lisce. Diversi frammenti di lastre funerarie con iscrizioni, numerosi elementi marmori decorati e frammenti di mosaico, vasi in terracotta, in ceramica, in vernice nera, di notevole varietà tipologica e della raffinata decorazione a rilievo. In un'abitazione romana invece era stato allestito un vero e proprio piccolo museo privato. Esposte, bacheche con reperti di pregio, ritrovati vasi di terracotta in buono stato, fregi ornamentali, un basso rilievo raffigurante una scena di caccia e numerosi frammenti di pittura murale, oltre ad alcune monete metalliche di età romana. I pezzi di maggior pregio saranno ora esposti presso i musei di Albano Laziale e Nemi.